Atte Benvenuti ben tornati in questo mio nuovissimo video ragazzi se vi state chiedendo perchè io ho la stessa maglia della scorsa settimana e dei clash royale di tutti perchè sto registrando e seguito tutti gli altri video per portarmi avanti con gli altri video Ecco diciamo così Allora ragazzi oggi siamo tornati nuovamente su Skill Su che? Che stavo dicendo? Skill No vabbè Siamo tornati nuovamente su Layers of Fear Ragazzi Siamo tornati su questo bellissimo gioco horror che io amo tanto perchè mi fa prendere dei colpi che manco la madonna Mi scuso ancora se vedete Non vedete il microfono ma vedrete Se vedrete nei giochi horror questo qua Però è per avere una qualità maggiore Una qualità audio maggiore perchè l'altro diciamo che sia un po' afflushato ecco Allora io direi di continuare il nostro percorso su Layers of Fear Ecco un gioco dove Bebe 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 bello Un gioco bello Dove muori di paura Vabbè Corridoi lunghi come sempre Cosa ci sono queste nelle porte? Eh boh chi lo sa Chiuso Scommetto Guardate scommetto ma io secondo me Ma guarda è un'ipotesi ma secondo me questa è chiusa Eh guarda là Vabbè andiamo avanti Eh no la gara Per piacere Eh 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 ok Siamo arrivati Siamo arrivati Ogni passo Lo sapevo ragazzi Quando guardo voi E perchè mi sto cagando addosso E quindi senza che guardo là Guardo voi Così poi mi giro Eh vabbè Eh andiamo avanti Intanto mi stanno chiamando Scusate ma Eh non posso rispondere Sto facendo il video Cazzo Non mi rompere Allora Andiamo avanti Con criterio Guardate guarda è sempre avanti tanto So che ora prenderò un grandissimo spavento Madonna che mi farò saltare il Carmine Dalla porta Da tutto il mondo Sì vabbè Allora Apriamo Facciamo ad aprire Non ce la facciamo mai ad aprire Andiamo a fare la terza volta Come sempre Là io guardo giù Perchè mi sto cagando addosso Non ce la faremo Eh dai ragazzo Ce la facciamo Oh ma perchè Dai con calma Ma con criterio Ma hai cagato il cazzo Perchè due E c'è petto Ma allora andiamo Queste porte Sono chiuse Sono sempre chiuse Dimmi di sì No Non è chiuso Eh cazzo Però se mi cadeva in testo Poi erano cazzo mia Cioè figa Non me ne torni indietro Ho paura No è chiuso No Ho paura Che cazzo Ci vuole andare da qua Parco a due Vado un cazzo Ah c'è una porta C'è una porta Che non riesco ad aprire Perchè Non trovo la Cazzo ma dov'è Allora questo qua Qua sarà la Qua qua Dobbiamo cercare la porta Eh ma dove cazzo sta sta porta Porco due Aspettate E perchè voglio capire Allora Questo è E E E dove siamo venuti Questa dovrebbe essere Qualche Ah e Eccolo Ah ok Perfetto Io mi è lontano perchè mi sto cagà Con la cacca in mano Proprio c'ho la cacca Ce l'ho qua la cacca Vabbè ce l'ho sta dai Ok Guarda che succede Eh vabbè Eh vabbè Guarda io Io Beh Ma io non l'ho aperta Sei partita solo Sei a porta di merda Che porta da che cazzo Sono fasulle Se porta Oh 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 Porta Porta Dove sei? Porta Non ti trovo Porta Cazzo Porta di merda Porta di merda Dove cazzo Eh no to trovo 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 avevo trovato Vedrò più Eh to trovo Trovo altro Eh vabbè E' chiuso Buonasera Ma ma se Ok c'è nessuno To scherzo Non vedo cazzo Porco duro Man è la puta Oh Ora si c'è C'è Tutto 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 Ah c'è una chiave No stavo scherzando C'è un cazzo Qualche chiave non esiste Pronto Che che ho Marito e moglie Forse Sì Molto Qui è? Qui? Mi sto cagando in mano Ragazzi ho paura Di aprire Sta porta Apriamo? Apriamo? La vogliamo aprire? Aperta Usciamo a cazzo duro Senza futuro Ok E se io vado dall'altra Pa... Se io vado dall'altra parte Scusate Proprio li devo andare addosso Che manco i cani Che li devo trastassare Questa è chiusa E che cazzo devo fa? Scusate Che devo fa? Che devo fa? What the fuck? No non lo so Che cosa devo fare Ragazzi mi sto cagando in mano davvero Ma chi cazzo me lo fa fare Porco due D'amme i giochi horror Io sì sì Lo continueremo nel prossimo SììììììììììììììììììSó Mi sto cagando in mano Sto mi sto cazzo Ma porca miseria Porca Porca di quella lurida Sozza Acida Lezzo ah c'è una chiave vabbè non l'avevo manco vista sinceramente questa chiave ma vabbè andiamo e pavimenti bagnati come sempre non vedo un cazzo cioè quando mi dà fastidio che non si vede niente che cazzo scusa ma no 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 non ti preoccupare no non ti preoccupare non ti preoccupare chiudiamo la porta dov'è quel cd che si metteva che è il suoso? che è che è che è che è che è la protesi? una protesi? ah quindi questo qua c'ha una protesi non c'è niente ah eccolo il cd dal fin all around dal fin all around è bella 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 mi piaceva quella canzone no scusa scusa bisogna girare la manovella gira gira piccolina patatina poffo mi piaceva Sì, vabbè. Che cazzo di letto è? Che è che è il letto di merda? Proprio quando la gente distresse il cazzo, eh? Ah, 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 ah Ma non posso rispondere, perché la gente deve... Mi fa cagare ancora di più in mano così Oh, fatemi uscire, cazzo Oh Vabbè, usciamo Che mi devo dire? Oh, non possiamo nemmeno uscire Non possiamo nemmeno uscire Ma che cazzo? Pronto, chi è? Non è il lupo a mangiare frutta, che devo fare qua, mo? Non so Oh, che è questa cosa? I needed a jar and a plastic tubing I siphoned gas before I knew how it was done I stuck the tube in a vein And sucked on it Until blood filled my mouth Then put the tube in the jar And it just kept coming A taste of copper Haunted me the entire night Why didn't I think of a syringe? Cioè, devo berlo? Lo devo bere? Ragazzi, io non lo bevo Io non lo bevo perché lo berremo insieme nel prossimo episodio E niente Lo berremo nel prossimo episodio insieme Cazzo Lo berremo insieme nel prossimo episodio E ti capito? È croccante È croccante A parte di scherzi ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto In tal caso vi invito a lasciare un pollice di su qua sotto Stiamo, diciamo, andando avanti con Layers of Fear Insieme Con calma Con criterio È tutto quello che volete Io ragazzi Come sempre vi invito a lasciare un pollice di su qua sotto Nei commenti E... Ditemi cosa ne pensate di questo gioco E... Molto probabilmente Non so se avete visto già Outlast Spero di sì E... Comunque Io vi invito sempre a lasciare un pollice di su qua sotto Iscrivetevi al canale Tutto in descrizione E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao